Siamo qui con Davide De Angeli al termine di questo match amaro, sfortunato per il Crema che sembrava all'inizio invece essersi messo molto bene per la squadra nero-bianca che è andata in vantaggio e poi invece non ha saputo esercitare il controllo. Sì, rispetto alle altre partite diciamo che questa domenica siamo partiti bene, ha fatto un'ora buona anche nel secondo tempo anche ai primi giocando abbastanza bene su un campo che magari lo permetteva poco e poi dopo sul 1-0 sono riuscito a prendere due gol e li abbiamo pagati cari alcune attenzioni che dobbiamo correggere che purtroppo sono sempre le stesse e dobbiamo correggere. Ecco un campo pesantissimo, davvero difficile giocare su questo campo, una squadra coriacea, il fanfula non ha mollato fino alla fine, però veramente il Crema ha pagato il prezzo di due episodi al fine. Sì, due episodi che ci hanno castigato, ha fatto sì che torniamo a casa oggi con zero punti, dobbiamo lavorare e correggere queste cose perché così è un campionato a Serie D, un campionato tosto che se sbagli ti puniscono e poi è duro a smettere in piedi la partita. Ecco oggi si vedeva proprio nell'uscita dal campo dei giocatori un atteggiamento molto mesto, proprio di sofferenza, delusione interiore, ecco in che modo si riparte da un risultato così negativo? Purtroppo siamo qui per parlare di ripartire, si riparte sempre lavorando sodo, mettendo il massimo sul campo in allenamento, domenica ci aspetta un'altra battaglia, purtroppo il nostro rimarcia attuale fa sì che non siamo nelle prime posizioni che sono quelle che competono per i valori di questo gruppo e dobbiamo comunque sia darci la mossa perché le altre poi scappano e è sempre difficile prenderle.